Granarolo è un gruppo cooperativo, una grande cooperativa che controlla un SPA, si occupa come noto di alimentazione, in realtà è nota per essere la più importante impresa del DELE di questo paese, ma ultimamente ci stiamo occupando di alimentazione, di cibo, di nuovi cibi, nuovi prodotti per intercettare anche il nuovo modo di consumare del nostro momento storico. Abbiamo messo a punto un progetto, un acceleratore di imprese che ha lo scopo di avvicinare giovani ricercatori, le imprese in primo luogo ovviamente la nostra, ma anche le altre imprese del distretto emiliano, sia dell'alimentazione, ma anche degli altri settori connessi, del packaging, della logistica, del biomedicale e quant'altro, e dell'IT, per inventare nuove occasioni di lavoro legate a nuovi prodotti. L'idea innovativa di acceleratore di imprese, ce ne sono già visti sicuramente altre, l'idea innovativa è di mettere a disposizione tutte le nostre fabbriche del gruppo dei giovani, delle start up. Avremo una sede messa a loro disposizione e selezioneremo insieme agli altri partner dell'acceleratore progetti che a nostro avviso possono già avere una prospettiva, quindi che siano di interesse per l'impresa, che siano quei famosi progetti che non riusciamo a mettere a punto individualmente, abbiamo bisogno di qualcuno che leghi noi il packaging, la logistica o tutti questi settori o alcuni di questi settori. Siamo fiduciosi che ci possono essere tante idee, che diversamente magari rimangono nel cassetto di qualcuno, anche noi ne abbiamo parecchi, e che invece in questo modo possono essere portate a compimento.